Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come farà il bambino in ciscina. Vestita? Da sirena! Girati, facci vedere dietro. Uuuuh, fantastica! Che bellissimo! Vieni qua, lo facciamo vedere bene questo costumino. Allora, il reggiseno, eccolo qua, è fatto in forma di conchiglia rosa. Ecco la coda! E tutta la coda della sirena, verde con le squadre del pesciolino. Però abbiamo anche questo, vero Midori? Sì, queste qua sono false. Sono le mutandine. Sì, perché guarda! Perché diciamo che la coda è un po' scomoda, dopo un po' è meglio cambiare e mettere le mutandine. Vabbè, ma a me mi piace la coda. Va bene, siamo pronti? Sì! Andiamo? Sì! Voglio vedere come intuffo la lana a coda, mamma! Va, andiamo! Sì, vi faccio vedere, guardate che sto a fare. Brava! Ho visto? Bravissima! Ti mettono i braccioli. Devo debagnare un po' i braccioli, poi infilate dentro al bracciolo. Guarda le pinghe. Che riesci? Le pinghe mi dai! E ti dice, devi riuscire! Forse è troppo gonfio. No, sei riuscita! Qua! laugh! how. Musica! Ha, ha, ho! Come? anna aufiosi! Ho! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti